Spero che va tutto bene, intanto conosco già l'ambiente qua, sono già stato qua due anni, adesso come qua e spero di fare bene. Subito mi hanno aiutato, mi hanno parlato come vuole il mister, uno come Maglianelli che lui lo stimo tanto, mi ha parlato tanto, intanto mi sono trovato bene con la squadra. Penso anche quest'anno abbiamo una buona squadra e speriamo di fare bene anche a puntare in alto. Benissimo, mi trovo bene se mi metto davanti alla difesa, mi metto con mezz'ala perché intanto posso fare tutto il ruolo, mi trovo benissimo. Se è il meglio non ho mai fatto campionato B, non ti posso dire niente, però lo sai che è una campionata lunga, che è strano, però non so niente di campionato di B. È sempre un sogno di arrivare l'anno alto, però non fa male per scendere, fare bene e tornare in su. Il mio amico lo sento, però non mi ha detto quando arriva. Sì, sì, c'è la Maglianelli, perché lui anche dopo averlo mi ha trovato tanto. Il mio amico lo sento, per esempio. Grazie.